6 nuovi casi di persone positive al covid-19 sono stati rilevati in Umbria dopo due giorni di aumento zero. Sono tutti concentrati sull'ospedale di Terni. I nuovi casi positivi sono stati individuati grazie al sistema di monitoraggio messo a punto dalla regione, si legge in una nota, che ha permesso nella struttura sanitaria ternana, attraverso l'applicazione della procedura di sorveglianza su pazienti e operatori in entrata e in uscita di individuare i 6 nuovi casi positivi, per i quali è stato subito disposto risolamento e dei quali sono stati ricostruiti i contatti. Alle 8 di martedì 5 maggio sono quindi 1.400 le persone positive al virus, mentre gli attualmente positivi sono 220, meno 10 rispetto a ieri. I guariti sono 1.110, più 16 e 44 i clinicamente guariti, meno 5 rispetto a ieri. I deceduti sono 70, sono ricoverati in 67, 11 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 753, più 6 rispetto a ieri. Sempre alla stessa data ne risultano 16.477 usciti. Nel complesso sono stati eseguiti 39.998 tamponi.